Buongiorno a tutti ragazzi e buon lunedì, buon inizio settimana, buon proseguimento di mese, marzo 2020. Oggi qua fa caldissimo, sono le 9.30 e già ci sono 25 gradi, quindi mi appresto veramente ad una fantastica giornata, bella corsetta, pronte mare e poi ci si mette a creare qualcosa di buono per tutto quanto il gruppo. Le avevo promesso di spendere anche io due parole come stanno facendo, come vedo, 60 milioni di italiani in Italia, non faccio altro che unfolloware persone su Facebook che parlano semplicemente e solo in negativo della situazione che si sta creando e la maggior parte delle persone lo fa perché non analizza la situazione in maniera nazionale. Quindi la situazione è sì grave, questo mi dispiace, non la sottovaluto, ma dal mio lato ignorante della cosa, non essendo un medico, non essendo un esperto del settore posso però leggere quelli che sono i dati che ci vengono dati dall'OMS e da altre associazioni del genere, soprattutto associazioni mediche naturalmente. Qui in Spagna direi che la situazione è molto tranquilla, almeno per il momento, forse anche dato dal fatto che comunque gli spagnoli vedono l'approccio ai problemi in una maniera un po' diversa dalla nostra. Prima noi eravamo un po' come loro, adesso ci siamo un po' più negativizzati, questo a livello generale. Lato business naturalmente bisogna, come da tutti quanti i problemi che si vanno a creare durante la propria vita, si potrebbe naturalmente far sì che nascano delle opportunità da questo tipo di esperienza, anche negative. E naturalmente l'opportunità viene data da tante aziende che hanno dovuto chiudere in questo periodo, o i battenti definitivamente, oppure solamente per rispettare quello che è il decreto ministeriale, affidarsi appunto allo smart working. Smart working è sempre una parola un po' sconosciuta, ai più, ma è quello che naturalmente già esiste, che noi di Best Team Investment mettiamo sul campo ogni giorno già da tanto tanto tempo. Smart working è una parola che è utilizzata in moltissimi stati al di fuori dell'Italia, al di fuori dell'Europa già da moltissimo tempo, e non solo viene usata, ma è un'attività che appunto viene naturalmente, come dire, valorizzata al massimo. Quindi lavorare, smart working vuol dire lavorare a distanza e non propriamente sul posto di lavoro. I vantaggi naturalmente sono molteplici, adesso non mi metto qui ad elencarli, ma insomma è davvero molto molto semplice capire quelli che possono essere veramente i risparmi dal punto di vista economico, di costi fissi e quant'altro. Che dire, io mi rivolgo soprattutto a coloro che sono in quelle zone in questo momento colpite dal decreto, quindi zone rosse in particolare, anche una parte della mia regione, Pesaro Urbino, è stata inclusa in questo scenario. Naturalmente approfittate di questa cosa, nel senso che rispettate tutte le misure che sono state date, ma con internet naturalmente non è che siete proprio segregati in casa e fuori dal mondo. Quindi approfittate di analizzare delle attività che vi possano creare ricchezza, creare libertà, creare del tempo libero su internet. Ce ne sono un'infinità. Chiaramente se seguite noi ne abbiamo due, tre in particolare che andrebbero seguite già da subito. Quindi parlo lato betting, parlo lato opzioni binarie, parlo lato forex e da qualche giorno abbiamo inserito anche una parte relativa al match betting che definiamo, che alcuni definiscono gold, io lo definisco platinum perché appunto MyBet21 è una attività online che permette di fare del guadagno matematico solamente operando con due bookmaker Betfair e quello sponsorizzato appunto ovviamente sempre AMS da MyBet21. In più da oggi ci sarà nel canale chat Filippo che si occuperà di dare tutte le informazioni relative alla parte della roulette, quindi BetSync. Avete visto in questi giorni qualche link sulla chat relativo a questo tipo di servizio. Io non lo posso, come già vi ho fatto anche un adio sul gruppo seguire da vicino perché sono impegnato appunto nello sviluppo della University del Training insieme a Daniele che partirà brevissimo. E in più stiamo definendo un accordo con una persona molto molto competente lato cripto che non solo molti di voi conoscono ma è conosciuta molto molto anche all'esterno del nostro gruppo per creare proprio un'academy dedicata, un'university dedicata anche alle cripto. Quindi avremo un canale segnali, avremo un seguire del mercato costantemente e quant'altro. Questa non partirà subito perché c'è bisogno di un po' di tempo per organizzarla ma stiamo facendo passi da gigante anche dal punto di vista dei tempi. Tutto qua, io volevo spendere queste due parole, darvi un buon inizio settimana e per qualsiasi cosa io sono a disposizione come sempre sui miei contatti quindi social, facebook, telegram, numero di telefono, vi ricordo il mio numero 331-1238-692, parlo con chiunque e basta che mi date un accenno prima di chiamarmi, in modo che ci si organizza e tutto qua. Ci sentiamo sui canali, vi auguro una grandissima giornata. Ciao a tutti!